Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. In questo nuovo videocorso vi accompagno alla scoperta di una storica eppure proporzionalmente ancora meno utilizzata Google App. Vi parlo cioè di Google Sites, scritto Google Sites. Dove troviamo Google Sites? Allora intanto assicuriamoci dal nostro browser Google Chrome di aver effettuato l'accesso correttamente con l'indirizzo, l'account istituzionale. Ricordiamoci che in Google Workspace for Education, la denominazione della Google Suite, lo sapete la nuova denominazione, non dobbiamo utilizzare il nostro account personale Gmail. È importante aver chiaro questo elemento. E allora io qui sono in Classroom, l'accesso l'ho effettuato correttamente, vi mostro come sia possibile direttamente tramite questo pulsante in alto a destra, lo conosciamo, quello puntinato che mostra le app di Google, scegliere Google Sites. Andando a cliccare sul pulsante vedremo che l'icona viola, Sites, si mostra davanti ai nostri occhi. E abbiamo a disposizione alcuni modelli, templates, che sono questi riquadri qui in alto, per cui noi possiamo lavorare già su una base confezionata. C'è un esempio qui che io ho utilizzato realmente, che è lo stesso che ora utilizzo con voi, perché noi possiamo scegliere il modellino corso per immaginare questo modello come un contenitore, ad esempio per educazione civica o per la disciplina, da costruire o da far costruire ai ragazzi in cui ospitare testi, immagini, video provenienti da YouTube, files da scaricare da Drive. Allora, è concepito a mo' di sito internet, così capiamo meglio di che cosa stiamo parlando. In alto ho la barra di navigazione, c'è anche un pulsante a forma di ingranaggio, vedete se io clicco, ho poi le opzioni, io vi invito sempre sempre a leggere bene, perché in realtà è la lettura delle diverse opzioni che ci aiuta e ci consente di lavorare al meglio. Scopro infatti che qui potrei banalmente scegliere se la modalità di navigazione debba essere in alto o laterale, se il colore di quella barra debba essere bianco oppure nero, e il cambiamento lo vedete in tempo reale. Poi chiudo con X. Quelle pagine presenti in alto, che poi sono insomma dei links, in realtà ci sono perché sono presenti su pagine, lo vedete a destra. Se la pagina newsletter non è necessaria ai nostri scopi, hai tre pallini a destra. Io clicco, vado a dire elimina, questa pagina non esiste più. Lo stesso potrei fare con la pagina programma. E quindi per aggiungere in realtà delle pagine avrai più nuova pagina e ho questa struttura proprio a sito blog. Se vogliamo fare un paragone, Google Sites è accostabile alla nota risorsa Open Source, nota a livello mondiale, Word Press. Però ha l'integrazione con gli strumenti Google, se analizziamo i vari aspetti. E allora, a nome del corso, vado a fare un clic, questo diventa il mio contenitore per educazione civica. Perché no? E quindi vado a digitare. Educazione civica. Abbiamo in alto anche la barra degli strumenti per la formattazione, dunque l'abbellimento. Allora andiamo sotto ancora. Panoramica del corso. Questo è un campo, questa è una casella di testo. Se io clicco, vedete, ho la possibilità di intervenire con questa facilità. Vado a cancellare lettera per lettera e scrivo ad esempio Benvenuti nel nostro contenitore dei materiali di educazione civica. E poi brevemente dettagliamo un piccolo testo qui sotto. Lo vedete, il lavoro della nostra classe terza e, per esempio, è consultabile tramite questa pagina web e rappresenta una buona pratica per noi e per i compagni delle altre classi. Voilà. Quando abbiamo degli elementi preconfezionati come questi, abbiamo la possibilità di spostare se utilizziamo il tasto sinistro premuto del mouse e come una grande lavagna magnetica queste come se fossero calamite, quindi ho la possibilità di farle scorrere. Se è un blocco intero che io non desidero, vedete che quando mi posiziono sul blocco questa è una sezione, ho il bidone che me la fa sparire. Ma non mi piace questa immagine di copertina. E allora guardate, sposto un attimino la mia faccia. C'è scritto cambia immagine. Un clic sulla tendina. Un clic su seleziona immagine o carica, qualora io dovessi caricarla dal mio dispositivo. Ed eccoci a poter scegliere tra immagini campione. E io scelgo ad esempio questa che mi piace perché ha un quaderno e un tablet e unisce quindi il mondo digitale ed il mondo analogico. Bene, l'immagine io ce l'ho pronta e come vedete c'è il tasto blu, seleziona poi da cliccare. Eccoci qui, inserimento confermato. E allora, qualunque cosa io voglia fare, esempio, questa immagine la voglio andare a sostituire o va eliminata? Beh, se è un elemento singolo da eliminare, non una sezione, vedete che ho il tasto bidone per tirarlo via. Insomma, potrei anche modificare quanto già presente. Vedete, c'è anche una idea, no? Progettuale. Se invece voglio inserire degli elementi qui, io a destra sto sul menu inserisci con un clic. Quelli che vedete, che sono chiamati layout, sono le sezioni. Cioè, voglio un layout, voglio una striscia che abbia un'immagine e un testo, allora clicco su quella sezione lì. Diversamente se io voglio degli elementi, to, immagine, clicco su immagini. Se invece voglio un video che sia caricato sul mio canale YouTube, legato al mio account e che appaia qui dentro con il consueto riquadro, il box di riproduzione di YouTube, guardate, clicco su YouTube, posso ricercare in realtà anche altri video, ma altrimenti se clicco video caricati, ecco, io faccio riferimento ai miei, d'accordo? Per esempio, qui ne ho uno che ho creato per un corso, che ho fatto ai colleghi nel 2019 sulla Flipped Classroom. Ecco, mi piace, mi soddisfa, lo clicco, clicco su seleziona. Insomma, è per mostrarvi un esempio, come potete notare. E io posso qui, ho generato una sezione, avere all'interno di questa mia pagina web un bel contenitore pronto dove ho questi blocchi e a ciascun blocco do una certa funzione. Posso aggiungere un divisore, posso aggiungere un pulsante, un carosello di immagini, una mappa. Addirittura posso fare che cosa? Posso cliccare su Documenti, perché come notate c'è l'integrazione piena con le Google Apps. E cliccando Documenti che cosa accade? Che lui mi mostrerà i documenti salvati sul mio Google Documenti, sul mio Drive, sempre legato a questo account, clicco per esempio su questo che è un documento dove c'è un lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi, stiamo costruendo un dizionario ma non posso spoilerare di più. Vado a cliccare su Inserisci ed ecco che abbiamo un blocco che tramite queste maniglie di ridimensionamento vedete di angolo, può essere tranquillamente, insomma, aggiustato dal punto di vista della dimensione. Ora qui, in questo caso, eccoci qua, lo abbiamo un po' ricondotto a questa dimensione, con il tasto sinistro premuto io lo posso tranquillamente spostare dove io desideri. Vedete? Adesso lo ingrandisco ancora un pochettino, lo tratto come un'immagine. Ecco, in realtà, così capiamo la versatilità di questo strumento, io quindi posso consentire a chi visionerà di cliccare, riprodurre un video da YouTube, oppure ancora, se del caso, lui vedrà il riquadro del mio Google Documenti, ma gli apparirà il pulsantino che gli aprirà poi in una nuova scheda, ecco, questo documento. Quindi ho veramente tante opportunità, anche in termini di versatilità. Ora stiamo lavorando noi, in alto abbiamo le possibilità consuete, cioè di annullare l'ultima operazione o di ripristinarla. Questo pulsante in alto che sto illuminando anteprima ci mostra modalità visualizzazione, e questo è proprio un classico da sito web, come vedranno gli altri. Educazione civica, vedete c'è il nome del corso ancora da modificare, vediamo un pochino cosa abbiamo creato, eccoci qua, vedete c'è un pulsante poi per chi guarda che apre questo documento come documento a parte, e queste tre icone che abbiamo in basso mostrano, nel gergo del web si dice un contenuto responsivo, mostrano cioè come questo contenuto verrà visionato, se si avrà un computer, se si avrà un tablet, se si avrà uno smartphone. Chiaramente nel caso dei dispositivi mobili più piccoli il contenuto sarà a scorrimento verticale. Inoltre, in questo modello template corso, abbiamo anche la lentina già presente che cosa fa? La lentina presente, avete visto, cliccato sulla X piccola e si è chiusa l'anteprima, mette a disposizione di chi ne fruirà la ricerca per parola chiave dentro questo nostro contenitore web. molto interessante. Vi mostro anche, sempre andando su inserisci, che io posso inserire anche, pescando da Drive direttamente, files in PDF eccetera eccetera eccetera. Guardate la semplicità d'uso. L'icona con il mezzo busto e il più la conoscete e la conosciamo. È l'icona che ci permette di condividere con persone e gruppi e rende quindi anche il lavoro in Google Site cooperativo e collaborativo. Nel mio caso, per ora, non c'è questo tipo di volontà e lì lavoriamo a più mani. Ma quando abbiamo terminato, per dire che abbiamo terminato, allora andiamo a fare un click su pubblica. Cliccando su pubblica, ovviamente, che cosa mi propone? Lui genera, genera un nome a dominio, si dice, cioè mi regala un indirizzo internet, il cosiddetto URL, che sarà sotto la mia organizzazione, cioè sotto la mia scuola. Io vado a modificare, ad esempio scrivo educazione civica 3e, no? Simulo. Ecco, come potete vedere sotto, questo non è, si dice, un dominio di primo livello, non è andrea.it. Ma lo vedete, è sites.google.com, slash nome della organizzazione, slash ancora, ecco, educazione civica 3e. Chi può visualizzare il sito? Dipende dal nostro obiettivo. Solo chi è in istituto? Oppure clicco su gestisci, cliccando su gestisci, vado poi a cliccare su cambia alla voce link, e quindi questo sito pubblicato, per avere diversi gradi di protezione. È pubblico, quindi anche le famiglie, cioè all'esterno, sul territorio e per la comunità, dovrà essere visionabile? O resta una buona pratica scolastica e quindi è visionabile solo a chi si autenticherà con l'indirizzo del mio, anzi, Google Workspace? Decidiamo noi, io clicco pubblico e poi clicco su fine, immaginando in questo caso di renderlo veramente un vero e proprio repository web aperto all'esterno, ok? Potrà anche essere rintracciato, se notate, facendo così nel tempo ovviamente, dai motori di ricerca. Se io voglio un contenuto pubblico, ma comunque un filino più protetto, posso, come notate, anche cliccare sul quadratino, richiedi ai motori di ricerca pubblici di non mostrare il mio sito. Lascio a voi la valutazione. Con un clic su pubblica però vi mostro che a questo punto, dopo qualche istante, il nostro blog di classe, la nostra singola pagina web contenitore, il nostro sito, se andiamo su pagine e andiamo a cliccare su più, sarà pronto e costruito, potendo interagire con tutti i servizi e tutte le Google Apps. Ebbene, ecco come questo strumento sia utile anche per la didattica, proprio perché, se pensiamo a un repository, a un contenitore, ci verrà sempre in mente Google Drive, d'accordo. Ma in realtà, se vogliamo una pagina web che funga anche da contenitore, allora sì. Google Site, se ovviamente ne creiamo poi di più perché quello è lo scopo, vedete il servizio, si chiama Google Sites, con la S in fondo, è lo strumento che fa per noi. Lascio sempre a voi la prova pratica su strada, vi ringrazio come sempre per la stima con cui mi seguite e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.